Tanta gente già in fila da diverso tempo, diverse ore che aspettano l'apertura di questa diciassettesima edizione Presepi Viventi. Un ringraziamento va all'associazione che ha curato tutto nei minimi dettagli, a Fabrizio Rosati che è il presidente e che è veramente infaticabile. Grazie a lui oggi possiamo assistere a questo evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.